Se state creando un videogioco in orizzontale e non volete che gli utenti ci giochino quando hanno il telefono in posizione verticale, ecco cosa ci vuole Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, alla fine ho deciso che la miglior soluzione è quella di continuare questo videogioco Il videogioco che ogni giovedì portiamo su questa serie, abbiamo fatto quasi 45 episodi, forse l'abbiamo anche superati, adesso non ricordo Quello che farò nelle prossime settimane è rifinire questo gioco per poi pubblicarlo, ma ancora non ve lo do ma ve lo faccio giocare Mi date un po' di feedback riguardo questo videogioco, quindi bug da sistemare e così via e grazie ai vostri feedback continuerò a sviluppare questo videogioco, a modificarlo e a portarvi dei video Poi vedremo effettivamente come si evolverà il tutto Nel video di oggi vi farò vedere come semplicemente mettere un'immagine a schermo che indica all'utente, al videogiocatore che deve ruotare per forza il suo dispositivo In questo modo se l'utente ha il telefono in maniera verticale non può giocare a questo videogioco e deve per forza spostarlo Ovviamente deve avere attivata la notazione schermo, se no ovviamente il browser non riconosce che il dispositivo sta cambiando orientamento Quindi ragazzi direi di non perderci in chiacchiere e di vedere subito come fare una cosa di questa Eccoci qui all'interno di Construct 2, all'interno del nostro gioco dall'alto e oggi metteremo una funzione veramente molto interessante che potreste poi utilizzare voi in altri videogiochi Se state realizzando un videogioco e l'utente deve tenere per forza il telefono in modalità orizzontale possiamo mettere un blocco Ovvero che se l'utente entra e guardate un po' lui ha il telefono in modalità verticale Guardate un po', se adesso sono in modalità verticale non funziona più, appena io lo rigiro funziona di nuovo, funziona alla grande Infatti posso muovermi, posso sparare e così via ma appena ritorno in modalità verticale non funziona più Come ho fatto una cosa di queste? È veramente veramente molto molto semplice Infatti quello che dobbiamo fare innanzitutto è preparare le nostre immagini Infatti come ho fatto io, molto molto semplice, sono andato su Photoshop e mi sono creato un progetto di dimensione uguale alla mia Windows Size Windows Size che attualmente andando su View, andando sulla sinistra posso vedere è 1280x640 È una dimensione un po' troppo schiacciata che più avanti noi modificheremo effettivamente Subito dopo cosa ho fatto? Mi sono creato uno sfondo nero di opacità 75 Adesso vedremo, non è che ci serve veramente perché poi l'ho creato direttamente con Construct E poi ho inserito una piccola icona con una sovrapposizione colore bianca e un'ombra esterna E questa icona l'ho presa appunto su uno dei migliori siti per trovare icone Mi raccomando state veramente molto attenti alle licenze e vi lascio il link del video in descrizione Che avevo fatto proprio un video in particolare Ma subito dopo aver fatto questo cosa ho fatto? Sono andato ad esportarmi quella piccola icona in PNG E cosa ho fatto? Guardate un po' Prima di tutto sono andato a crearmi un layer di nome Rotate Infatti qui c'è il background, l'account D, menu principale, game over e così via Un layer Rotate che l'ho messo in alto a tutti perché deve essere quello ovviamente visibile più degli altri Deve essere il primo di tutti Benissimo Poi cosa ho fatto? Ho fatto che questo layer Rotate deve avere in assoluto un parallasse 0x0 In modo tale che ogni cosa che posizioniamo in quel punto rimane lì e non si muove in base al movimento della telecamera e così via Subito dopo aver fatto questo cosa ho fatto? Mi sono andato a creare un'immagine che ho messo dietro l'icona Queste immagini si chiama RotateBG ma potete chiamarla come volete Ho dato una dimensione 16x16 quindi veramente molto piccola Io ho messo un image point in alto a sinistra in modo tale che io poi posso ancorarla nella posizione 0x0 quindi in alto a sinistra E come dimensione io ho dato la stessa dimensione della Windows Size quindi 1280x640 In modo tale che in questo modo prenda tutto lo schermo Subito dopo aver fatto questo cosa dobbiamo fare? Abbiamo praticamente già fatto quasi tutto Dobbiamo inserire l'oggetto browser quindi cliccate due volte sullo sfondo e cercate l'oggetto browser Che attualmente io ho già inserito vedete subito un'icona di un pianeta Infatti l'oggetto browser ha proprio questa icona Una volta che l'avete inserito cosa ho fatto? Mi sono andato sul mio event sheet e mi sono andato a creare una variabile Questa cosa non è importante farlo oppure no Però io ho preferito avere una variabile per accedere al dato Ecco quindi per vedere se effettivamente l'utente ha il telefono in maniera verticale oppure no Cosa ho fatto? Ho creato una variabile globale booleana Quindi che può avere valori vero o falso quindi true o false E l'ho chiamata isLandscape Quindi è in orizzontale In questo caso è messa in falso quindi in automatico Poi sono andato a crearmi un gruppo Ok io ho dato un nome rotazione ma potete chiamarlo come volete E cosa ho fatto? Ho utilizzato la condizione isPortrait Come faccio a inserirla? Aggiungo un evento Vado sul browser Ed ecco qui che c'è scritto isPortraitLandscape Vi ricordo che Portrait vuol dire verticale Landscape vuol dire orizzontale Il telefono è in verticale? Si Allora RotateBG ovvero lo sfondo E RotateSmartphone ovvero questa icona qui Che adesso possiamo anche cambiare in RotateIcon effettivamente Quindi il telefono è in modalità verticale? Si Allora sia lo sfondo sia l'icona mettili a visibile E la variabile isLandscape impostala a falso Noi poi cosa possiamo fare? Possiamo fare che se questa variabile è falsa Allora l'utente non può né cliccare il bottone play Né cliccare il bottone impostazioni e così via Ovviamente molte di queste cose le do per scontate Perché vi ricordo ho fatto tantissimi video Soprattutto trovate anche in descrizione i videocorsi totalmente gratuiti Subito dopo però cosa ho fatto? Ho detto io Ma questa variabile effettivamente potrei anche non utilizzarla Infatti vi basta semplicemente mettere timescale Vi ricordo che il timescale serve per bloccare proprio il gioco Proprio come abbiamo fatto per il tasto pausa Per bloccare tutte le animazioni e tutti gli spawn e così via Quindi cosa ho fatto? Ho fatto che se la pagina è in portrait Semplicemente il timescale viene settato a 0 Vi ricordo che 0 si blocca completamente il gioco Altrimenti Quindi se non è in portrait sarà sicuramente in landscape Quindi sarà in orizzontale Devi settare queste due immagini in invisibili Quindi non mostrarle Mentre prima erano visibili ovviamente Metti la variabile islandscape a true E poi setta timescale a 1 Ovviamente queste due variabili possiamo anche non utilizzarle Io l'ho fatto semplicemente per ordine In modo tale che più avanti magari possa avere accesso a questo dato E magari comunque mettere delle ulteriori condizioni agli eventi In modo tale non si sa mai si bug o qualcosa del genere Comunque funziona In questo modo invece si blocca il gioco Perché il timescale viene settato a 0 In questo modo in pochissime linee di codici abbiamo fatto una cosa super figa Cioè se il nostro gioco, se l'utente deve per forza giocare in modalità orizzontale Adesso lui deve per forza impostare il telefono in modalità orizzontale Io sono andato un po' a modificare il codice di questo gioco Ma ho fatto cose piccole che poi vi farò vedere Quello che ho fatto è stato semplicemente mettere sui comandi touch Che i comandi adesso si possono cliccare soltanto se siamo effettivamente su mobile Quindi ho messo un'altra condizione Ma queste cose le sapete fare Perché ragazzi dopo più di 40 episodi e dopo 3 videocorsi gratuiti È ovviamente molto semplice fare tutto questo Questa cosa però è veramente molto interessante Perché l'utente è obbligato a mettere il telefono in orizzontale Per poter giocare correttamente a questo videogioco Una cosa che faremo successivamente Guardate un po' appena io vado in orizzontale La barra di navigazione si vede in alto e dà molto fastidio Nel prossimo episodio sicuramente quello che faremo È che magari quando lui va a impostare lo schermo in modalità orizzontale O può cliccare in alto a destra ad esempio per mettere il gioco in full screen Oppure gli appare un piccolo messaggio con scritto Vuoi mettere il gioco in full screen? Sì oppure no In quel modo se lui clicca sì metti il gioco in full screen Se lui clicca no fallo proseguire per il menu principale e per il gioco In questo modo l'utente cosa fa? Entra nel gioco sicuramente sarà in modalità verticale L'icona schermo gli indica di girare lo schermo Perché è veramente molto chiara l'icona Lui gira lo schermo e poi in caso potrebbe apparire anche il messaggio a schermo Effettivamente come potete vedere funziona alla grande Questo gioco sta veramente benendo figo E poi i movimenti ragazzi Eh ma lì li spacco Lì non vi potete dire niente perché come sapete ci tengo veramente tanto a creare sempre dei comandi Fatti veramente bene Ho messo il telefono in verticale e guardate un po' Rifunziona perfettamente Guardate un po' io appena giro Appena io tipo cerco di cliccare non fa niente Appena mi sposto guardate un po' io adesso cliccando qua spara Guardate guardate allora cliccando qui posso sparare Questo qui vero era Vedete io adesso faccio così Non funziona lo sparo non funziona niente Perché il time scale è settato a zero Quindi ragazzi questo era un semplice tutorial Ma super interessante Quindi ragazzi come avete visto è stato veramente molto semplice mettere questo blocco Potete farlo anche al contrario quindi se il vostro gioco si gioca per forza in modalità orizzontale Potete anche utilizzare questa cosa e quindi fare che se l'utente mette il dispositivo in modalità landscape C'è un blocco che indica l'utente di spostarlo di nuovo in verticale Ovviamente questo dato lo potete utilizzare anche per altre cose Perché se volete mettere nel gameplay ad esempio che se l'utente ha il telefono in verticale si vede in un modo E in orizzontale in un altro modo potete assolutamente farlo Nessuno vi vieta di fare una cosa di questo genere Vi basta semplicemente salvare il tutto in una variabile E poi in base al valore della variabile mostrare una cosa invece di un'altra Quindi ragazzi se vi è piaciuto questo video vi invito di lasciare un bel pollicione in su Fatemi assolutamente sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di questo video E niente ragazzi io vi auguro un buon sviluppo di videogiochi E ci vediamo domani Ciao Ciao